Cala l'inflazione. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica Istat, in agosto l'indice dei prezzi è sceso rispetto al mese precedente da 1,3 a un punto percentuale. Eppure i consumatori hanno un'idea diversa. Fare la spesa è più difficile. Siamo sulla frutta, quella basica, che sia la mela, anche sulla frutta secca. Tutto, anche il latte, tantissimo. Trovo forse un po' caro l'olio. La percezione degli italiani in effetti corrisponde al vero. Gli alimentari sono una delle categorie che hanno subito un aumento dei prezzi, insieme a tabacchi e prodotti per la cura della persona. A diminuire invece sono energia elettrica, gas e altri combustibili, che incidono sull'inflazione complessiva calcolata dall'Istat, riducendola. Non vi è contraddizione tra il fatto che l'inflazione stia scendendo e la percezione che invece l'inflazione stia salendo. Il tutto è aggravato dal fatto che le retribuzioni non stanno salendo. Così come confermato da un consumatore ai nostri microfoni. Solo stipendio formato.